Un'intensa grandinata nel primo pomeriggio di oggi è interessato anche la Valle Arroce, la Valle Impero, a Piovediteco nel territorio circostante, fino alla zona di Cesio, i chicchi di grandine hanno creato un manto bianco lungo le strade, creando anche non pochi rischi alla circolazione. Per fortuna la grandine, diversamente da quanto accaduto da Lassio, non è rimasta a lungo e non ha quindi potuto accumularsi al suolo, creando ulteriori problemi. Il timore ora è quello di possibili danni, anche gravi, agli oliveti, che sono carichi di olive che potrebbero essere state danneggiate dai chicchi di grandine. E' andata meglio ai produttori di vino che hanno per fortuna ormai praticamente ultimato la vendemmia nei numerosi vigneti presenti in queste zone, salvando così la maggior parte di uva che, come le olive, ha visto una stagione molto positiva sia in termini di quantità che di qualità.